Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera i discepoli di Gesù scesero al mare e saliti in una barca si avviarono verso l'altra riva in direzione di Caparnao. Era ormai buio e Gesù non era ancora venuto da loro. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver amato circa tre o quattro miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Megli disse loro, sono io, non temete. Allora vogliono prenderla sulla barca e rapidamente alla barca toccò la riva alla quale erano i diretti. Parola del Signore. Parola del Signore. Siamo a Gerusalemme e la comunità cresce. E col crescere del numero, pur con la presenza dello Spirito, la presenza dei carismi, dei doni, siccome la comunità cristiana è una comunità umana divina, fatta cioè di uomini, ecco che sorge il malcontento fra gli elenisti verso gli ebrei. Cioè la comunità è composta, Gerusalemme, di gente che viene dal paganesimo, gente che viene dall'ebraismo. E siccome era tutto in comune, sembrava agli elenisti che lo loro vedo fossero trascurate nella distribuzione dei viveri. E allora che i dodici convocano il gruppo dei discepoli e fanno questo discorso, noi non possiamo occuparci delle cose temporali fino a tal punto da trascurare le cose principali. E le cose principali per noi sono la parola di Dio e la preghiera. Noi abbiamo un ministero da svolgere, e cioè la preghiera, la direzione della preghiera, dell'Eucaristia, tutta la preghiera, la patto cultuale e la evangelizzazione. Ma le cose temporali dovete trattarle tra di voi perché noi non possiamo essere impediti per le cose temporali, pur necessarie, per i servizi alla collettività pur necessari, non possiamo essere impediti di compiere quello che è primario per noi apostoli, cioè pregare ed evangelizzare. e così ecco la proposta guardate tra di voi scegliete persone degne, capaci di compiere i servizi alle mense, presentatele a noi, noi imporremo le mani e daremo il mandato. e così le scelsero sette, la scelta è della comunità, la proposta è della comunità, non è dall'alto che viene la scelta, ma è la comunità che sceglie e poi gli apostoli impongono le mani, confermano quanto la comunità ha fatto, danno il mandato e questi sette sono i primi sette diaconi che amministrano le cose temporali, sono dediti al servizio pur necessario, cioè alla diaconia a servire i propri fratelli nel Signore. Vediamo che cosa c'è da osservare in questa pericope che forma la prima lettura pericope degli atti. Innanzitutto il malcontento. La comunità di Gerusalemme è una comunità tipo, una comunità inarrivabile per perfezione. Erano un cor solo e un'anima sola. Poggiava la comunità sulle quattro colonne, erano assidui, all'istruzione istruzione degli apostoli, alla preghiera, alla comunione fraterna, alla fazione del pane. non mancava non mancava nulla a questa comunità. Eppure sorge il malcontento, sorgono i dissidi, appunto perché è inevitabile in una comunità di in una comunità di uomini pur santificata dallo spirito, pur camminando nella via della luce, qual era la prima comunità di Gerusalemme, comunità tipo, perfetta, è inevitabile che sorgono dei malcontenti, dei dissidi, per tante circostanze, provenienti o dall'interno della comunità esterna e stessa, oppure dall'esterno, dall'ambiente, dalle necessità temporali che condizionano la vita interiore. Per cui nessuna meraviglia che in una comunità possano sorgere dei dissidi e non perché sorgono dei malcontenti dei dissidi quella comunità non è buona. La comunità è buona. La comunità perfetta è quella di Gerusalemme, eppure ci sono dissidi e malcontenti. Per cui dobbiamo avere come scontato che in una comunità quanto più sono le persone tanto più facilmente sorgono dei malcontenti, dei dissidi, delle revisioni, delle marmorazioni. Il guai è quando noi questo non lo vogliamo accettare e quando a causa di questi dissidi, di questi malcontenti, diciamo, la comunità non vale. Oppure quando pretendiamo che queste cose non succedano, queste cose debbono succedere, è inevitabile che succedano, però come gli apostoli vanno incontro ai bisogni, ovviano a tutti i bisogni per eliminare ogni malcontente e contentare tutti, così bisogna fare anche in ogni comunità. E per comunità intendo la famiglia, per comunità intendo i gruppi ecclesiali, per comunità intendo la parrocchia dove viviamo. è inconcebibile per noi un perfectionismo a tal punto che tutta va da liscia. Si tratta allora di una comunità di morti, soltanto i morti al cimitero, non si visticene tra di loro, ma in una comunità di vivi che hanno una testa per conto proprio. Possono succedere facilmente queste vedute diverse, però bisogna subito venire incontro, esaminare le cose e provvedere come provvedere gli apostoli. una così una veduta saggia quella degli apostoli è un modo di provvedere ancora più saggio così gli apostoli prendono coscienza che da soli non ce la fanno, prendono coscienza che tutta la comunità è chiamata ai ministeri ai servizi che loro hanno un servizio particolare in forza della loro fiseremia sono gli apostoli e pertanto riservano a loro riservano due servizi più importanti pregare ed evangelizzare per cui la preghiera è la cosa più importante nella mente degli apostoli non non possono servire gli altri trascurando la preghiera perché la preghiera è la forza dell'evangelizzazione nessuno può evangelizzare se non si riempie di Dio altrimenti si corre il rischio di evangelizzare se stesse e nella preghiera che viene recepita la parola di Dio che si viene infiammata dell'ordore di Dio ossia in altri temi che si riempie di spirito santo luce amore e forza e che non ha luce non ha amore non ha forza non può evangelizzare convidentemente e siccome l'evangelizzazione è vitale nel ministero apostolico perché per questo il Signore ha mandato gli apostoli gli inviate andate in tutto il mondo annunziate il Vangelo ad ogni creatura fate discepole tutte le nazioni perché siano salvate ecco che gli apostoli riservano a sé questi due ministeri chiave preghiera preghiera ed evangelizzazione poi vengono i servizi i servizi vengono dati agli altri a tutta la comunità e la scelta viene affidata alla comunità stessa perché è una comunità piena di spirito santo docile scegliete tra di voi uomini saggi uomini pieni di spirito santo uomini capaci dunque esotoli gli apostoli a scegliere uomini che abbiano doti naturali e soprannaturali adatti al servizio in una comunità diciamo umano divina teandrica e la comunità sceglie piace la scelta agli apostoli non escludono nessuno se hanno scelto unanimamente queste persone certamente hanno scelto bene e così impongono le mani anche qui se non c'è il mandato non si può esercitare un ministero un servizio perché un servizio sia legittimo in una comunità ci deve essere il mandato non è di propria iniziativa che ognuno si metta a lavorare nel settore che crede ma ci vuole il mandato di colore che presiedono la comunità questo perché l'ordine è voluto dal Signore ma adesso applichiamo queste regole a tutti i nostri gruppi a tutte le nostre comunità è scontato che in ogni comunità la migliore che esiste ci debbano essere dei malconteggi cose che non vanno è scontato e allora provenire nel migliore dei modi non adoccarsi non a scendere la ventino ma convenire per risolvere ecco cosa va una comunità nello spirito santo si parla si discute si mette avanti la questione ci si mette in preghiera si sceglie l'opera migliore da fare pur di arrivare all'unità nella comunità gli apostoli erano in questo modo tolleciti perché la comunità non può essere mai scissa non si scende il corpo del Signore diceva Giovanni l'apostolo sia anatama che divide il Cristo una comunità divisa è un Cristo diviso ed è anatama chi divide una comunità o chi fomenta la divisione di una comunità è anatama perché è attenta al Cristo che vive nella comunità la scelta cade su uomini pieni di spirito santo ecco è importante questo non scelgono secondo le capacità umane soltanto anche queste ma scelgono occolutamente persone piene di spirito santo perché il servizio alla comunità è il servizio reso a Cristo presente nella comunità aveva detto Gesù quello che avete fatto al minimo dei miei fratelli lo avete fatto a me e il servizio non omiglia nessuno perché Gesù ce ne ha dato l'esempio quando dopo la lavanda dei piedi sedette in mezzo ai discepoli disse il figlio dell'uomo non è venuto per servire per essere servito ma per servire e come ho fatto io fate così anche voi e per compiere il servizio di Cristo è necessario avere lo spirito di Cristo ripeto per compiere il servizio di Cristo perché il ministero è sempre uno quello di Cristo al suo corpo bisogna avere lo spirito di Cristo chi non ha lo spirito di Cristo non può compiere il servizio di Cristo al suo corpo che è la comunità e non edifica la Chiesa corpo di Cristo che deve crescere nella carità gli apostoli riservano come dicevo la preghiera e l'evangelizzazione sono due ministeri ai quali anche gli altri vengono chiamati ma sono specifici questi due ministeri degli apostoli dei riscepoli del Signore i riscepoli possono anche non servire alle mense ma non possono non pregare non possono non evangelizzare sono due ministeri propri dei discepoli degli apostoli di colore che presiedono alla comunità ora io vorrei attirare l'attenzione all'importanza della preghiera se gli apostoli se la riservano non è che escludono gli altri no perché è detto che erano costanti nella preghiera nella frazione del pane però è l'importanza della preghiera per la crescita per la crescita spirituale non trasversiamo mai la preghiera con la scusa di servire con la scusa di vigilare sugli altri può succedere questo e succede ci sono persone le quali sono adibite ai servizi e stanno sempre alla porta stanno sempre in giro e non pregano mai questo non è un bene la preghiera non va mai trascurata per cui chi non si alimenta di preghiera non può servire bene è un servizio nello spirito tanto e bisogna alimentare questo servizio questo spirito di servizio con la preghiera ecco perché io vedo bene che nei servizi ci sia vicenda in modo che la preghiera non venga saltata la preghiera deve essere sempre l'alimento necessario in tutti i ministeri che noi facciamo l'avvicendamento nei servizi materiali è necessario perché non si venga meno alla preghiera San Francisco quando andava con i suoi frati negli eremi per pregare li divideva in due categorie settimana per settimana e cioè i frati Marta e i frati Maria i frati Marta per una settimana dovevano servire ai fratelli Maria i quali fratelli Maria non potevano fare niente se non pregare la contemplazione non doveva essere mai turbata e i frati Marta così servivano preparavano il cibo preparavano tutto poi l'altra settimana cambio i frati Marta diventavano frati Maria e i frati Maria diventavano frati Marta c'è questo avvicendamento in modo che non venga mai meno dentro di noi lo spirito di preghiera necessario per sostenerci nel cammino che tutti siamo obbligati a fare e perché questo cammino sia omogeneo non è bene che alcuni siano sempre lì in preghiera i servizi nobili diciamo siano in proiezia e gli altri siano sempre a scopare a a vigilare sulle sedie ad impostare le cose questo non è un bene questo avvicendamento ci vuole o comunque provenere perché quelli che sono adibiti al servizio ai servizi materiali abbiano lo spazio abbiano i momenti in cui privi del loro servizio siano attenti alla preghiera siano in prima fila qui io per esempio vedrei bene che quelle 4 5 6 persone che sono adibite alla vigilanza alle porte così una volta al mese almeno due volte al mese si mettono qua in prima fila e non facciano niente non siano sempre lì in periferia a vedere chi entra vedere chi esce a a ricevere quell'atto a informarsi e poi non sono presenti alla preghiera questo voglio appunto sottolineare perché tutto si è compiuto bene e questa comunità cresca omogeneamente questo voi osserverete nelle vostre comunità piccole nei vostri gruppi e anche in questa comunità che si costituisce ogni volta che il sabato ci riuniamo qui e una parola vorrei aggiungere per il Vangelo ecco può darsi che tante volte noi sentiamo paura di Dio camminando nel mare cioè lavorando nel mare può soffiare un forte vento che mette in pericolo la nostra navigazione Gesù ci viene incontro ma tante volte non lo riconosciamo abbiamo paura Gesù si avvicina alla barca dove i discepoli sanno arremare c'è forte vento e allora quando videro Gesù nella nebbia ebbero paura ebbero paura tanto che Gesù dovette dire loro sono io sono io non temete e allora furono rassicurate Gesù manifesta la sua identità può succedere questo a noi nel corso del nostro lavoro possiamo anche non vedere Cristo non accorgeci di lui anche quando non ci sta vicino perché c'è la bruma del mattino c'è la nebbia della sera la penombra e il crepuscolo che possono anche non farsi vedere bene e allora il Signore si è sempre vicino perché camminiamo nel mare della vita sempre con il Signore ci sono dei momenti in cui il Signore si fa presente e ci dice sono io non temete non avere mai paura mai paura Gesù chiede una cosa mettetevi in barca imbarcatemi e appena imbarcano Gesù la nave fila avevano lavorato stentavano a tenere così in equilibrio la nave ed era così faticoso remare ma quando Gesù sale sulla barca subito raggiunge la riva ecco il lavoro viene così agevolato in maniera portendosa finché Gesù è fuori gli apostoli debbono a lavorare ma quando Gesù è dentro la barca non c'è più timore né di affondare ci sono io e neanche di lavorare troppo perché è Lui che porta avanti la nave porta avanti il nostro lavoro affidiamoci a Cristo Signore affidiamoci a Lui perché Egli è con noi e soprattutto imbarchiamolo nella nostra vita tante difficoltà ci saranno quando noi avremo imbarcato Gesù che è vicino a noi tante volte non lo riconosciamo tante volte abbiamo paura però è Lui il Signore riconosciamolo e imbarchiamolo nella nostra vita nella nostra famiglia nei nostri gruppi e allora cammineremo bene e allora non affonderemo più allora si remicherà facilmente e non batte il tocchio raggiungeremo la riva il traguardo Alleluia Alleluia Signore Signore dobbiamo ripeterlo più spesso ma dobbiamo personalizzarlo Gesù è il Signore di tutti ma Gesù è il mio Signore è colui che mi guida nella vita Gesù è il mio Signore se tutti potessimo dire con coscienza con lealtà sincerità che Gesù è il mio Signore colui che mi guida colui che mi governa allora la nostra vita sarebbe migliore migliore sarebbe anche la vita della nostra famiglia il menaggio familiare sarebbe certamente più cristiano per la presenza di Cristo ed anche la vita dei nostri gruppi sarebbe più intensa cioè più spiritualmente intensa e più armoniosa tra di noi e allora benvenga il grido Gesù è il Signore la dite così Gesù è il mio Signore Gesù è il mio Signore e adesso chiediamo al Signore la liberazione e la purificazione chiediamo innanzitutto a Gesù liberatore siamo nel Tempio di Gesù liberatore chiediamo la liberazione delle scorie del peccato dell'uomo vecchio eccoci la liberazione morale perché il peccato ci domina il peccato ci asserva ci asservisce ci schiavizza ci lega e non c'è peggiore legatura del peccato non basta confessarsi sì con la confessione può essere rimessa la colpa ma se noi non ci emendiamo se non rinunziamo fortemente al peccato se non facciamo intervenire la potenza liberatrice di Cristo invocandola restano dei legami al peccato ecco le ricadute le facce le ricadute perché siamo ancora legati le ricadute le ricadute non c'è la voce la voce l'unità l'unità Chiediamo al Signore allora la liberazione dei legami, dei legami morali, dei legami che ci impediscono di vivere sempre in grazia di Dio o di vivere pienamente nella grazia del Signore, dei legami che ci impediscono alla libertà interiore. Diciamo così al Signore, liberiamo Signore, sciogli il mio Signore. Poi chiediamo la liberazione dei legami psicologici, dalle tante paure che abbiamo, dalle angosce, dalle ansie, dai complessi. Tante volte siamo schiavi dei nostri complessi, complessi di inferiorità. Siamo schiavi nelle tante paure, paura della morte, paura delle malattie. Alle volte queste paure diventano psicosi, cioè paura di sporcarsi, paura di cadere, paura della gente, agrofobia o claustrofobia. E abbiamo la vita penosa. Se rendiamo penosa la nostra vita a noi stessi, la rendiamo penosa agli altri che ci stanno vicini. Il Signore deve liberarci. con questa liberazione psicologica deve risanare la nostra psiche, soprattutto da quei traumi che sono profondi e antichi, traumi della nostra giovinezza, della nostra poerizia, della nostra vita uterina. Preghiamo al Signore perché compia questo risanamento interiore, questo delegamento psicologico, dalle ansie, dalle angosce, dalle difficoltà, dai complessi di colpa, dai complessi molteplici che noi possiamo avere e dalle molte paure. O Signore Gesù, diciamo, O Signore Gesù, scendi nella mia vita attraverso l'arbero della mia vita e vieni fino nel lutero materno dove io fui generato. Ripercorri la mia vita dalla nascita fino a questo momento e risanami dai traumi che io ho subito. Risanamo, Signore, con il Tuo amore, con la potenza del Tuo braccio. con la potenza del Tuo braccio. Io mi affido a Te. Io mi affido a Te. Ti metto in mano i miei ricordi penosi. Ti metto in mano i miei ricordi penosi. Risana la mia memoria. Risana la mia immaginazione. Risana la mia immaginazione. Risana la mia sensibilità. Risana la mia sensibilità. Risanamo, Signore. Risana, mio Signore. E chiediamo al Signore adesso la liberazione dagli influssi del maligno. E' da qualche tempo a questa parte che tante persone si sentono disturbate più del solito, più di prima. E' da qualche tempo a questa parte da quando soprattutto in televisione compariscono tanti ministri di Satana che insegnano come fare fatture, come liberarsi dal malocchio, che introducono nel mondo dell'occulto che dentro di noi si manifestano delle paure, delle perplessità, delle ansie, che aprono la strada le porte agli influssi del maligno. Per cui tante persone si sentono disturbate personalmente di giorno o di notte, si sentono impedite come legate. In tante famiglie non c'è quieto, non c'è pace, non c'è sempre alterco, divisioni, malintesi, senza dire che in tante case ci sono infestazioni malefiche, disturbi materiali, tutta la nostra vita è disturbata. E allora dobbiamo pregare il buon Dio che ci liberi dagli influssi del maligno il quale ci tenta, ci seduce, ci percuote, ci fragella, ci perseguita, crea dissensi, malumori, ci mette in urto gli uni con gli altri, ci procura rovesci di fortuna, ci impedisce il lavoro, rovina le attività nostre e tante volte ci infesta con pensieri, sentimenti di ostilità, di procurità, di procurità al male oppure serpeggio dentro di noi. Dobbiamo chiedere a Gesù la liberazione, Lui è liberatore. Dobbiamo da una parte accostarci ai sacramenti che sono sicurezza per noi, non andare mai da maghi, non andare mai le colori che fanno preghiere e di cui non sappiamo l'origine, non salire scale proibite, l'unica scale è quella della Chiesa, i gradini della Chiesa, i gradini di casa nostra, immocchiamo il Signore e Lui ci verrà incontro, chiediamo i sacramenti, chiediamo i sacramentali, chiediamo le preghiere liturgiche, le preghiere e le benedizioni che la Santa Madre Chiesa ci dà in abbondanza, ma non franquotentiamo lo straniero o i ministri dello straniero per essere liberati dallo straniero. E' un'emozione che lo straniero vada contro di sé, come dice Gesù dalla scrittura. E allora ricordiamo a Dio e chiediamo questa mattina al Signore la liberazione da questi molteplici disturbi del maligno, siano quelli piccoli, siano quelli gravi. O Gesù, liberatore, liberaci, scendere le nostre famiglie e liberaci, scendere le nostre dite e liberaci. E adesso cantiamo il canto della liberazione. Corina. con forza e con forza. Corina, l'esercizio ame, orina, l'esercizio ame, orina, l'esercizio ame. Emi, 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 Adonai, Ossari. Emi, 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 Adonai, Ossari. Emi, 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 Adonai, Ossari. E' mia, e' mia, e' mia, domani, o sari. Oggi di dubbio e vittoria, e le pende dei giusti. Oggi di dubbio e vittoria, e le pende dei giusti. La mano del Signore ha fatto meraviglie. 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 Pietà, pietà di me, oh Dio, in Te mi rifugio. Mi rifugio all'ombro delle Tui ali, finché sia passato il pericolo. invocerò Dio all'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Manda dal cielo a salvarmi, dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la Sua fedeltà e la Sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lanci e frecce, la loro lingua è spada affilata. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa ed essi mi sono caduti. Saldi il mio cuore, Dio, saldi il mio cuore. Voglio cantare a Te, voglio ineggiare. Svegli il tuo mio cuore, svegliati arpe, eccetera. Voglio svegliare l'aurora. Ti roderò tra i popoli, oh Signore. A Te cantare gli inni fra le genti, perché la Tua bontà è grande fino ai cieli e la Tua fedeltà fino alle nubi. Alleluia. Alleluia. Ecco, ringraziamo il Signore, perché il Signore è qui in mezzo a noi. Noi lo abbiamo invocato ed Egli si è reso presente. Gesù è qui in mezzo a noi, liberatore potente. Oh Gesù liberatore, liberaci questa mattina. O Gesù liberatore, sii per noi liberatore potente. O Gesù risanatore delle menti e dei cuori, degli animi e dei corpi. Risanaci da tutte le nostre infermità. e noi canteremo a Te inni di ringraziamento. «Giorno». E' la gloria è la sombra. Dì al Signore il mio rifugio, mia roccia in cui confido. E ti rialzerà, ti solleverà, sua lì d'aquila Ti rialzerà, da lui non distogliermi più Nelle cosse del mondo, tu vedi sparire E una luce di gloria apparire Abbi il tuo cuore a Gesù